No, 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 Asco! Cos'è la campagna elettorale? Credo che sia quando uno compra una campagna che non vale un trodio perché non si può costruire, no? Invece poi si mette d'accordo con chi ha votato, cambiano il PUC e si può costruire. Oppure sono già d'accordo che gli fanno la salatoria. Ah, il salatorio! Dove ti vogliono mettere a te, mamma e zio! Ah, così è! Grazie! 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 Grazie!